Ciao a tutti, oggi vi parlo di un libro bello, perché ho letto troppi libri trash ultimamente, devo rifarmi almeno con un mese di alta letteratura, diciamo. Il libro in questione è Io, non io e neanche lui di Andrea G. Pinketz. Andrea G. Pinketz che ho già conosciuto attraverso l'antologia Gioventù Cannibale. Come ben sapete la letteratura cannibale italiana degli anni 90, è uno dei miei movimenti letterari preferiti, e di Pinketz avevo letto semplicemente il raccontino all'interno dell'antologia. Quindi ho pensato che sarebbe arrivato il momento di conoscerlo attraverso i suoi romanzi, i suoi scritti, autonomi diciamo. Anche perché molto spesso in quell'antologia, anche chi non brillava con il suo racconto, si è rivelato successivamente un autore, mi ha portato a conoscere autori straordinari, ora ignoti. Pinketz è ben più famoso anche perché è prolifico ed è famoso anche come giornalista. Oltre al fatto che ho scoperto con orrore che ha fatto la comparsa in The Lady 2. Ma io non l'ho visto, dov'è che è Pinketz? Che parte fa? Comunque il libro è bellissimo. Allora è un libricino, vedete pochissime pagine, infatti lo leggete in massimo due ore. Sono cento paginette scarse ma dense, divertentissime. Io ho riso un sacco perché è un libro intriso di humor, ma è uno humor malsano, nero, amaro, che è il tipo di humor che piace a me perché ti fa ridere ma dopo ti spinge alla riflessione su tematiche molto importanti. Il libro è una sorta di raccolta di racconti, ma in verità è un romanzo di racconti, nel senso che comunque i racconti sono collegati tra loro attraverso una estetica da un film rouge quasi pirandelliano, ovvero l'incontro tra Pinketz stesso e la sua analista. E diciamo che l'analista offre la possibilità a Pinketz di raccontarsi, di raccontare i suoi problemi attraverso undici racconti brevi. E sono racconti brevi grotteschi, paradossali, surreali. Ad esempio vediamo, cioè sono tutti bellissimi. È la prima raccolta di racconti vera e propria. Una delle poche comunque, perché sicuramente ce ne sono altre, però è una delle pochissime racconti di racconti che io abbia mai letto, dove nessuno dei racconti presentati è sotto gli altri. Sono tutti intrisi da una grande originalità, una grande genialità, e poi sono molto brevi. In questo caso funziona perché, essendo dei racconti totalmente folli, deliranti, se fossero stati più lunghi sarebbero finiti con l'annoiare. Invece riuscirò a chiudere un cerchio, perché poi solitamente nei racconti si tende a lasciare aperte le questioni. Invece Pinketz chiude, chiude tutto. È conciso, è chiaro, ma allo stesso tempo è libero. Libero di andare dove vuole lui, di portare il lettore dove vuole lui. E per farvi capire un po' lo stato, che cosa contengono questi racconti, lo stile di Pinketz, l'immaginario che lui affronta, che molto spesso è legato al noir, al crimine, all'horror, a tratti, allo splatter. Però c'è anche tanta umanità, c'è del romanticismo. È un mix di generi, è un continuo flirtare tra più generi letterari. E non lo so, ad esempio, il mio racconto preferito, tra quelli che ho letto, è sicuramente quello dei serial killer. C'è questo serial killer che inizia ad uccidere perché non gli è mai piaciuta la minestra. E allora il padre gli dicevi, o mangi la finestra o ti butti dalla finestra, no? Gli è rimasto sto trauma e allora lui ha le sue vittime e dice, o muori subito o ti ammazzo io, no? E visto che nessuno muore di crepa cuore, lui ammazza per quello, no? E del suo rapporto d'amicizia tra questo killer e il killer dello zodiaco, che tra l'altro è esistito davvero. E diventa assurdo perché tutto il raccontino che si svolge nell'arco di dieci pagine massimo è un passare da carnefice a vittima in fuga, no? Perché diventa amico solo di serial killer e serial killer iniziano ad ammazzarsi tra di loro, no? E' un senso del grottesco del genere. C'è un altro libro in cui l'alicantropia viene vista come discriminazione, ricordandomi un po' di Street Nine, no? Sugli alieni. O un altro ancora di uno che si rimpicciolisce sempre di più fino a scomparire. La moglie per celebrargli il funerale trafuga il cadavere di un altro, no? Sono cose del genere, racconti di questo stampo, racconti permeati da un senso malsano di fondo, a tratti fanno veramente accapponare la pelle. Però la differenza sta nel fatto che Pinketz racconta queste storie macabre con un piglio brioso, frizzante, ironico, divertentissimo. Ah, mi ha divertito un sacco anche il racconto di un autore premio Nobel che ha una fame da lupi ma non riesce mai a mangiare ai buffet perché tutti lo fermano con i convenevoli. Oh, che bravo, che bravo che sei. Intanto tutto il buffet sparisce perché la gente magna e tutti magliano tranne lui. Non vi dico come va a finire il racconto, ma è una chiusa geniale. È una chiusa geniale, secondo me, amara, grottesca. E attraverso questo umorismo e queste storie si riflette con una certa profondità su argomenti attuali, già dibattuti ma mai con questo spirito, raramente con questo spirito gogliardico ma intelligente allo stesso tempo. Si parla di discriminazione, di dissociazione dell'identità, di solitudine, sono tematiche importanti, dense, che qua vengono affrontate con una ricchezza stilistica straordinaria anche perché Pinkett molto spesso con questa scrittura molto rapida riesce a fare dei giochi di parole interessanti. Ogni frase c'è un'espressione stilistica che ti lascia sbigottito, scrive da Dio. Gioca con le parole, col suono delle parole. Riesce a fare in modo che ogni frase possa essere letta secondo più punti di vista. è molto interessante, molto divertente e molto figo. Ve lo consiglio assolutamente. Leggetelo, leggetelo, leggetelo. Sicuramente leggerò altro di suo. Fatemi sapere se avete letto qualcosa dell'autore o se lo leggereste. Io vi do un bacio e alla prossima. Ciao ciao.